Soprattutto penso che nessuno ha una ricetta di questo dramma, le politiche giovanili sono fatte di ascolto, ecco già mettersi all'ascolto e capire i problemi e risolverli insieme, non dall'alto di una cattedra, perché gli anni hanno dimostrato che le politiche dall'alto non aiutano, quindi noi adulti si prende atto di questo fallimento, si porta pagina, si ascolta, si ascolta, si ascolta e soprattutto si offre, si offre, si offre.